Ancora un abbraccio, un brazo. Anche il Comune di San Giovanni Appiro ha aderito all'iniziativa della giornata internazionale contro la pena di morte promossa dalla comunità di Sant'Egidio e lo ha fatto mediante un gesto altamente significativo, concedendo la cittadinanza onoraria al professore avellinese Aldo Masullo, maestro di filosofia morale. Assistiamo a un mondo globalizzato che vive uno smarrimento etico, ha dichiarato il sindaco Ferdinando Palazzo. La filosofia è l'esercizio che ciascuno è chiamato a fare nel tentativo di comprendere l'uomo e la vita. Se la mente è lo strumento, ma soprattutto l'opera più impegnativa che l'individuo è chiamato ad educare, noi, come comunità, non potevamo non ispirarci al pensiero che Aldo Masullo ha manifestato negli anni del suo professorato e che ancora continua a sviluppare con scritti, articoli e interviste suggerendo di viaggiare più leggeri nel tentativo di recuperare l'umanità perduta. L'illustre ospite a cui l'amministrazione ha deciso di dare l'onorificenza a causa di sopraggiunti motivi di salute non era presente all'importante consiglio comunale. Tuttavia, il professor Masullo è stato contattato per telefono. A lui sono state simbolicamente consegnate una pergamena che riproduce la motivazione del conferimento, una pergamena che riproduce la delibera consigliare e una maiolica tratta dai disegni originali del maestro José Ortega, raffigurante la distruzione di Bosco a seguito dei moti cilentani del 1828 e che il sindaco, Ferdinando Palazzo, consegnerà al filosofo nei prossimi giorni. Il comune di San Giovanni Appiro, aderendo alla giornata internazionale contro la pena di morte, ha illuminato di rosso i suoi campanili.